Ami il verde, ami la natura, ami poter tornare a casa nella tua villetta e trovare tutto il comfort possibile del giorno d'oggi? Sono Augiona Santo Stefano in via Como al numero 1 dove il verde esterno ti abbraccia e ti accoglie. Entri in casa e trovi l'armonia, la spaziosità, il colore, il calore e l'efficienza della nuova costruzione perché oggi avrai il piacere di vedere una villetta che è stata costruita molto bene soltanto nel 2016. Ciao, sono Raffaele Arizza e con il mio prezioso team aiuto te venditore a vendere prima, meglio, senza stress, a prezzo pieno. Contattaci per la miglior valutazione e ti spiegheremo il nostro metodo strategico. Se il video ti sarà piaciuto lasciami il tuo pollice all'insù, iscriviti al canale, attiva la campanella e seguici su tutti i nostri social. E adesso sigla prima di entrare in casa. Bene, benvenuti qua in questa deliziosa villetta. Abbiamo il pezzettino di giardino sul fronte ed ecco a voi questo stupendo ingresso nel suo soggiorno. Come notate lo spazio è ampio e tra il divano e la parete molto grande e attrezzata c'è una buona movimentazione e quindi potessimo ospitare grande tavolate per le nostre cene con gli amici. Funzionale, molto bella questa ampia vetrata che dà sul giardino. Iniziamo a vedere un po' di accessori, la videocitofono, l'antifurto e il grande vantaggio che il nostro riscaldamento a pavimento è diviso per zone. Molto interessante. E da qua andiamo in cucina tramite questa porta a scomparsa. Guardate quanta bellezza! Potete immaginarla già anche così per la vostra futura casetta. Funzionale, moderna e il grande vantaggio l'uscita sul giardino. La prima parte felicemente piastrellata e notate questo magico angolo. D'estate tra l'altro coperto per poter pranzare, cenare, colazionare con i vostri pargoli o con i vostri amici. Ed eccomi all'interno per scoprire ulteriormente angoli pratici e magici come questo antibagno che ci permette di collocare davvero tanto della nostra casa. E anche qui porta a scomparsa. Un bagno con i sanitari sospesi e curato nei minimi dettagli. Fantastica la finestra! E da questo punto un sonatina e saliamo al piano superiore tramite questa bellissima scala di design. E ora avrò il grandissimo piacere di mostrarvi una cameretta davvero unica. Notate per cortesia le altezze la bellezza di questo legno, color chiaro naturale, un seramento che è anche a rivalta, quindi comodo per il ricircolo d'aria. Tenete presente che qua abbiamo una predisposizione addirittura per lute e guardate, comprerete la casa e avrete milioni di sorrisi di palloncini per voi. Da questo punto abbiamo una porta libro che ci conduce a uno studio, piuttosto che un'ulteriore cameretta o guardaroba dotato, pensate, sia di finestra, quindi aria corrente importante e di questa finestra. E dove usciamo? Su un fantastico terrazzo che ci regala una vista sul verde davvero unica. Soprattutto adesso che siamo all'inizio del nostro autunno, un foliage da sogno. Ed eccomi all'interno, segue la pavimentazione omogenea su tutta la casa e adesso scopriamo una camera da letto molto ampia che ci permette di collocare un grande armadio a tutta altezza. E vi do uno scorcio anche di un ulteriore, come lo chiamo io, guardaroba elevato. Adesso per ultimo, ma non ultimo, vi desidero mostrare questo bellissimo bagno con colori davvero unici e guardate le valide dimensioni di questo ampio piatto doccia. Grazie mille, avete avuto il piacere di vedere una villetta molto interessante, pronta per te. Villetta del 2016, quindi super nuova. Zero, zero lavori da fare, ma tanto piacere da poter venire a vivere perché abbiamo un giardino sul fronte, un giardino sul retro, un meraviglioso ingresso che ti dà in questo ampio soggiorno dotato a tutta la casa di riscaldamento a pavimento. E con la caldaia a condensazione e fotovoltaico le spese saranno bassissime per la gestione di questa casa. Inoltre abbiamo il grande piacere di avere un bagno al piano, un'autorimessa collegata direttamente alla casa e tre camere con un terrazzo da sogno. Abbiamo impianto di irrigazione, antifurto su tutta la casa e compresa per te, uomo che ci tieni tanto, anche nel tuo box con una pascolante tra l'altro sezionale. Di conseguenza questa è una casa perfetta per voi giovani che amate allargare la famiglia e vivere nel verde e nell'armonia. Ti aspetto per venire a vederla, a comprarla e ricorda che con Domus 2 è facile vendere ed è sicuro acquistare felice casa a voi tutti.